Inevitabile che con quello che è successo in Medio Oriente, quindi con la guerra tra Israele e Hamas, sicuramente ci sono dei rischi, abbiamo visto anche quello che è successo ieri in Belgio, quindi è chiaro che ci sono degli aspetti che vanno controllati, mi sembra di capire, anche visto gli arresti che sono stati effettuati proprio oggi a Milano, il fatto che da parte del governo, del Ministero dell'Interno ci sia grande attenzione. Noi avevamo fatto anche un'interrogazione parlamentare su questo argomento, il Ministro Piantedosi aveva risposto che ci sarebbe stata una grande attenzione proprio per cercare di fare in modo che possano essere prevenuti in qualche modo questi rischi di attentati, è chiaro che nella manovra c'è la conferma dell'operazione strade sicure, dell'assunzione anche di alcun personale, avevamo già stanziato anche in precedenza, per rafforzare la sicurezza, presteremo attenzione, questo mi sembra che sia l'obiettivo del governo. Ovviamente sono i personaggi che si sono più radicalizzati, che vanno tenuti sotto controllo, però le forze dell'ordine hanno sempre avuto un'ottima attenzione anche all'intelligence proprio su questi soggetti, a parte di capire che fossero legati ad associazioni che avessero in mente di fare degli attentati, quindi prevenire è importante, la prevenzione è fondamentale e quindi l'operato delle forze di polizia e di intelligence proprio in questa direzione, cercare di stare molto attenti e dal resto il livello di allerta si è sicuramente inalzato e questo è quello che il governo sta facendo ed è quello che insomma giustamente anche tutti gli altri paesi europei immagino si stiano attivando in questa direzione visto quello che insomma è accaduto.